Genova con i suoi straordinari scorci sul mare e l'orgoglio di una storia prestigiosa e un temperamento operoso ha abbracciato Papa Francesco. Prima tappa di questa lunga e densa giornata nel capoluogo Ligure, lo stabilimento Ilva per l'incontro con il mondo del lavoro, un appuntamento a lungo preparato e molto sentito, soprattutto in questa fase di incertezza economica. Le attese e le paure di quanti si sono radunati in uno dei magazzini dell'immensa struttura sono state declinate in quattro domande, rivolte da un lavoratore, una lavoratrice, un imprenditore o una sindacalista. Rispondendo a braccio il pontificio, anzitutto espresso la gioia di vedere il porto da dove i suoi cari partirono alla volta dell'Argentina, per poi mettere a fuoco l'importanza del binomio lavoro-dignità, specie in un mondo che sembra favorire gli speculatori piuttosto che i buoni imprenditori. Intorno al lavoro si edifica l'intero patto sociale, ha detto Papa Bergoglio, tra gli applausi entusiasti di migliaia di caschetti blu e gialli. Se si lavora poco, è la democrazia che va in crisi, perché senza lavoro si può sopravvivere, ma non certo vivere. Dinanzi ai valori dell'economia che stanno mutando non in linea con i valori umani, Papa Francesco ha messo in guardia tutti da una società edonista incapace di capire il valore del sudore, così come da una società che agevola più gli speculatori che diffondono un'economia senza volti che i buoni imprenditori che non vogliono licenziare i propri lavoratori. L'obiettivo non è un reddito per tutti, ha concluso il Pontefice, ma è il lavoro per tutti, soprattutto per i giovani che oggi vedono drammaticamente ipotecato il proprio futuro.